Buongiorno a tutti ragazzi, io sono Ricote Gaming e oggi ragazzi siamo qui con un altro nuovo video Ragazzi, prima di iniziare il video, devo dirvi che sto usando un microfono delle cuffie Non so che marca è, cioè, è famosa, però solo che non so il nome Per cui non è tarocco, per cui non preoccupatevi che non è made in China Allora, allora, è un po' pesante per me, ma spero che anche voi avrete capito Ieri, ieri, anche oggi, mi hanno dato 3 strike nel mio canale ufficiale questo, Ryukate Gaming Non posso fare tantissime cose Allora, uno, mettere like, dislike, commenti, tante cose Monetizzare Vabbè, avete già capito che è una cosa veramente molto pesante Però, per dire Ragazzi, ho aperto un nuovo canale Perché è una cosa veramente, per me è un po' pesante, per dire Cioè, adesso sto parlando un po' con la voce pesante Però, per il mio cuore, avendo 2000 iscritti e averli perso tutti Sarà una cosa abbastanza molto difficile Per dire, lo strike è stato avvenuto 3 persone differenti Che forse potrebbe essere unico Perché non gli piace il mio canale O perché è geloso Per altre cose variate che non saprò mai Ma per dire Io, che faccio intro, così Spero che non sia per gelosia O per bravura O per odio del youtuber stesso Per comportamento che forse eseguo su facebook O su altre, boh, social Playstation, sì Computer, però spero che non penso che sia così E infatti ho aperto un nuovo canale Ovviamente l'inion, nessun strike e altro Mi chiamerò su youtuber Ryuka Lì farò video anche sempre di intro E anche sul game Però sul game più in là Per dire sullo strike Mi hanno fatto solo queste cose qui Dai like, dislike, commenti Della monetizzazione E... Intendo che in descrizione posso scrivere Però non è che possa scrivere qualche cosa in più Per cui ragazzi avrete già capito Però il bello è che non mi hanno chiuso il canale E quella è una cosa positiva E posso ancora pubblicare i video Per cui ragazzi non vi dico di iscrivervi Sì, iscrivetevi all'altro canale Non vi dico di mettere like E ne dislike Commentate voi per dire qualche commento E ci becchiamo Al prossimo video Nel prossimo canale Sì, nell'altro canale Bubaba a tutti